Casale sul Sile. I vigili del fuoco di Treviso e il nucleo subacqueo SAF sono intervenuti in serata in via San Nicolò per recuperare un'auto finita nel fiume. A bordo del mezzo era presente un uomo che è riuscito a mettersi in salvo uscendo dal tettuccio apribile della vettura. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'automobilista, portato da un'ambulanza del suo e malcafoncello in stato confusionale, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per una distrazione durante le operazioni di parcheggio. L'uomo era sconvolto a tal punto che inizialmente non ricordava neppure se fosse o meno solo in auto al momento della caduta nel Sile.